Noi abbiamo ricevuto l'adesione di una rivista di un centro studio internazionale politici sociali che ha sede a Parigi, una rivista che in Italia è poco conosciuta anche perché non ha fatto edizioni in lingua italiana, che partecipa, che ha partecipato al recente incontro internazionale di Nuova Deli che ha riunito la maggioranza dei partiti comunisti di tutto il mondo, una rivista, un centro studio che si chiama Correspondenza Internazionale e di cui fanno parte almeno una cinquantina di personalità politiche e intellettuali di orientamento marxista, comunista di tutti i continenti e tra questi esponenti legati ai più grandi partiti comunisti del mondo e che ci hanno mandato la loro adesione, la loro disponibilità immediata a collaborare con la nostra associazione e anche a mettere a disposizione la rete di collegamenti, di strutture, di personalità che già da anni collaborano con Correspondenza internazionale, metterla a disposizione del nostro lavoro. In particolare abbiamo ricevuto saluti e auguri dagli Stati Uniti, Erwin Marquit, uno dei maggiori intellettuali del Partito Comunista degli Stati Uniti, dal Brasile, dalla fondazione Maurizio Grabois e dalla sua direzione che è la fondazione legata al Partito Comunista del Brasil, da Cuba, dai rappresentanti di Cuba che operano nella rivista Correspondenza Internazionale, dalla Colombia, dal vice segretario del Partito Comunista della Colombia, dall'Argentina, da George Weinstein, uno dei maggiori economisti del continente latino-americano, anche a nome del Partito Comunista argentino. Sempre dalle Americhe abbiamo l'adesione di John Catalinotto, che è uno degli animatori negli Stati Uniti del movimento antiimperialista contro la guerra. L'adesione prestigiosa di Oscar Niemeyer, uno dei più più importanti architetti mondiali, ma anche padre nobile del comunismo brasiliano, nonché progettista della città di Brasilia e anche della famosa sede del Partito Comunista francese a Parigi, in Place Colonel Fabienne. Joao Quartin de Moraes, uno dei maggiori intellettuali latino-americani, segue un po' uno schema regionale, continente per continente, in modo da dare anche un po' l'idea diciamo così, delle diverse situazioni e densità delle diverse situazioni. Abbiamo il messaggio di Attilio Boron, del programma latino-americano di educazione a distanza in scienze sociali dell'Università di Buenos Aires. George Grispan e Caio Toledo, del consiglio editoriale della rivista brasiliana Critica Marxista, la rivista Principios, che insieme alla fondazione già citata Mauricio Grabois, sono i due strumenti culturali più importanti del dibattito, del confronto dei comunisti in Brasile, a cui peraltro il compagno Lo Surdo partecipa in modo organico da anni, che ci hanno mandato anche auguri calorosi, anche in considerazione del prestigio di cui Domenico Lo Surdo gode in Brasile. Dall'Africa abbiamo avuto il saluto e la disponibilità alla collaborazione della fondazione Chris Hany, che è sostenuta dal sindacato sudafricano, il COSATU, e dal partito comunista sudafricano e che ospiterà l'anno prossimo, dopo l'iniziativa di Nuova Deli, la conferenza internazionale dei partiti comunisti che si avvicinerà appunto in Sudafrica alla fine dell'anno prossimo. Abbiamo ricevuto anche una telefonata personale, cordiale, che ci fa molto piacere, del segretario generale del partito comunista sudafricano e il compagno Blade Zimande, che ringraziamo per questo segno di attenzione. Dall'Angola, Paolo Jorge, dell'ufficio politico dell'MPLA, intellettuali e dirigenti politici progressisti dalla Mauritania, saluti e auguri di Samir Amin e anche dalla comunità africana francofona che ha nella città di Parigi una grande consistenza. Dall'Asia è stata ricordata la presenza e il saluto dell'ambasciata cubana. direi che è il caso di citare in questo caso due compagni italiani, come lo Surdo e come il compagno di Liberto, che già collaborano ognuno nei propri settori culturali di competenza con l'Accademia delle Scienze, con le università cinesi, che hanno quindi già intessuto rapporti di tipo politico-culturale che sono preziosi per creare un ponte e una sinergia anche con il lavoro della nostra associazione. La presenza del Vietnam, abbiamo ricordato. Dall'India ci viene un segnale di interesse, tra l'altro con questi compagni, io ero a questa conferenza a Nuova Delhi, ci viene un grande segnale di interesse da parte dei due partiti comunisti indiani, partito comunista indiano-marxiste, partito comunista indiano, che sono stati gli organizzatori quest'anno di questa conferenza internazionale e che sono tra i fondatori dell'iniziativa di corrispondenza internazionale e che quindi sono, come dire, parte integrante di questo lavoro e della costruzione di questa rete di riviste, di enti, di istituzioni, di ispirazione comunista e marxista con cui vogliamo lavorare. Venendo all'Europa abbiamo il saluto, il messaggio di saluto di André Tosel, come è noto uno dei più prestigiosi intellettuali marxisti europei, di Patricia Latour, direttrice insieme al marito della casa editrice Léton de Cerise, che è una delle case editrici per chi conosce l'editoria francese più importanti e qualificate anche nella battaglia politica ideale in Francia. Dal Portogallo abbiamo il saluto caloroso e l'adesione di José Barata Mura, che è uno dei principali intellettuali marxisti del Paese, se non sbaglio già rettore dell'Università a Lisbona ed è anche uno dei maggiori dirigenti, forse l'intellettuale più prestigioso dirigente del Partito Comunista Portoghese. Volevo citare proprio una riga di questo saluto di Barata Mura, che mi pare valga la pena di essere citato testualmente. E' sparito ma lo ritroviamo, no? Alla fine era il biglietto più piccolo. Caro Domenico, cari compagni, voglio salutare la fondazione dell'Associazione Marx XXI. Essa nasce da bisogni vissuti, si propone obiettivi pressanti, si iscrive in un'esperienza di lotta politico-culturale in sviluppo come una forza organizzata di intervento. Auguro che l'Associazione saprà interpretare e vivificare i compiti che ci sono stati trasmessi dal Manifesto Comunista del 48 fino all'attualità e all'attuazione del lavoro dei comunisti e rappresentare nel presente il futuro del Movimento, senza mai sacrificare nel presente il futuro del Movimento stesso, nella teoria e nella pratica. Buon lavoro a tutti e un abbraccio solidale. sempre dall'Europa abbiamo il saluto del Partito Comunista britannico, dalla Germania saluti e auguri di Hans Heinz Holz, uno dei principali intellettuali marxisti tedeschi di fama mondiale e saluti anche sono venuti da personalità politiche e intellettuali, da Cipro, da Akel e dalla Grecia, dal Partito Comunista di Grecia. Dall'Europa dell'Est, e ho finito, abbiamo il saluto di Giula Turmer dall'Ungheria, co-presidente dell'Associazione per una Ungheria neutrale e anche presidente del Partito Comunista dei lavoratori ungheresi. Un saluto dall'Ucraina, di Tamila Iabrova, direttrice della rivista Il marxismo e il nostro tempo, rivista non di partito ma vicina al Partito Comunista ucraino. Due saluti importanti dalla Repubblica cieca, un intellettuale, Karel Pomailz, che è stato anche deportato a Terezin e che oggi è uno degli intellettuali marxisti, che dirige una delle principali riviste marxiste nella Repubblica cieca. E poi un saluto che ci fa particolarmente piacere di un giovane, Radim Gonda, che fa parte, è uno dei responsabili dell'organizzazione giovanile dei giovani comunisti della Repubblica cieca che, come ricorderete, fu messa fuori legge alcuni anni fa. Si sviluppò un movimento internazionale di solidarietà che ebbe nell'Italia uno dei suoi momenti alti e per il quale questi compagni nutrono verso di noi una grande riconoscenza. E infine, grazie anche a questa mobilitazione internazionale, la sentenza è stata rivista e si è determinato un processo di rilegalizzazione del ruolo dei giovani comunisti. E infine, un messaggio personale all'accademico Domenico Losurdo, ai partecipanti alla presentazione dell'associazione Marx XXI di Gennady Zhuganov, presidente del Comitato Centrale del Partito Comunista della Federazione Russa, che ci scrive, cari amici, saluto calorosamente la creazione dell'associazione Marx XXI secolo. Gli obiettivi che vi ponete sono fondamentali, particolarmente nel momento attuale. Siamo pronti a lavorare insieme a voi in nome del rafforzamento delle posizioni dei comunisti nei loro paesi e a livello internazionale. Formano i migliori auguri di buon anno nuovo con stima Gennady Zhuganov. E mi pare che, come dire, per la prima giornata di presentazione dell'associazione può bastare. Vi ringrazio l'attenzione.